Momin, mancano 5 minuti alla mezzanotte Wow, blackout all'imperiale Si spengono le luci È mezzanotte, sai? A mezzanotte sai che io ti penserò Ovunque tu sarai, sei mia Imperiale, buonanotte, buenas noches La musica da questo momento sarà underground Chi la propone, chi la propone Chi la propone è il re dell'underground L'imperiale ricorda che Ti ama Ti ama Underground Questa sera la console imperiale sarà curata da Andrea Giuditta, Enrico Rossi, Alex Neri, Rick Eight e Emiliano Le luci saranno curate da Emily J, la voce sarà curata da Franchino Volete viaggiare? Enrico Rossi Lui Ti farà viaggiare Da dove la trova questa musica? Sottoterra? Ma dove la trova? Sottoterra? Sottoterra? Qualcuno Sottoterra? Sottoterra? Qualcuno Grazie a tutti. 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 Come lo chiede? Come è stato? Come è stato? Come lo chiede? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. Volevo salutare Stefania Livorno. Volevo salutare Stefania Livorno. Quando la musica non è solo musica, ma la musica è magia. Volevo salutare Stefania Livorno. 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 Volevo salutare Stefania Livorno.